Dopo la sfuriata di Alex Belli che ha cercato in vano di aprire la porta rossa del grande fratello Vip, il man del game si era asserenato. Andrea Zelletta, concorrente dello scorso anno, ha scritto uno sfottò su Twitter. Comunicazione di servizio. Oltre all'entrata barra uscita principale, volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte. Queste le parole di Zelletta su Twitter. La sfuriata del concorrente del GF Vip è stata commentata moltissimo sui social e quasi tutti la pensano nella. Stessa maniera, Alex Belli non avrebbe mai lasciato il gioco di sua volontà, dopo aver parlato con gli autori in confessionale. Il man del game si era asserenato ed è tornato nella casa come se nulla fosse, prendendo parte alle attività degli altri tra coreografie e musica. Voi cosa ne pensate della sua reazione e delle parole di Andrea Zelletta? Secondo voi avrebbe mai abbandonato la casa del grande fratello Vip?